Una sala strapiena e un grande apprezzamento di pubblico hanno fatto da sfondo al Teatro Rossini di Pesaro al nuovo spettacolo della Rossini Pop Orchestra che ha celebrato il re del pop. L'orchestra sinfonica Rossini ha infatti chiuso la stagione con un tributo a Michael Jackson, colui che ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica ed è entrato nel mito. Ad essere proposti sono stati tutti i più grandi successi grazie ai sapienti arrangiamenti di Roberto Molinelli ancora una volta alla guida della Rossini. Ad affiancarvi in questa esperienza tanti compagni di viaggio, da Claudio Salvi che ha curato i testi come nei precedenti appuntamenti all'attore Giuseppe Esposto che ha dato voce a tanti miti della musica assieme alla Rossini passando per il corpo di ballo di Atelier Danza Hangart con le scenografie di Laria Barzetti e poi ancora le bellissime voci di Clarissa Vicky e Mattia Sciascia, solisti e Valentina Remma e Sala Gambaccini ai cori. Un vero e proprio show dunque in cui musica, danza e recitazione si sono fusi sul palco creando un'emozionante magia. Lo spettacolo di fatto ha chiuso la sesta edizione di Sinfonica 3.0 in un appuntamento che ha lasciato stregato il pubblico. Grazie mille.